Ciao ragazzi, ciao readers! Anche oggi con il capitolo di Natale perché ci stiamo avvicinando alla vigilia di Natale a Natale e quindi vi voglio fare un piccolo regalo o un regalo che potete fare per Natale ai vostri amici e ai vostri familiari ovvero il nuovo libro di Giulia Canteri. La nostra Giulia Canteri l'abbiamo già incontrato qualche tempo fa quindi andatevi a cercare il video, scorrete, 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 lo troverete sicuramente ma non vi voglio parlare totalmente del libro che è un'uscita, è giorni uscirà, incantesimo, book a book ma voglio fare una cover real per la prima volta, ovvero mostrarvi la copertina in anteprima siete pronti? Adoro fare queste cose ma naturalmente poi Giulia mi manderà il libro e ne parleremo molto più approfonditamente ma ora vedete soltanto la copertina che è questa meraviglia vi piace? Spero di sì perché oggi 16 dicembre c'è questa coveria speciale, questo è il mio regalo per Natale e mentre aspettiamo il libro che esca, intanto vi dico soltanto che la protagonista è Nerea che incontrerà Iside che la salverà e da qui partirà un fantasy regno di Giulia che ci terrà sicuramente col fiato sospeso, che parlerà un po' del passato, un po' della famiglia, un po' di tante cose e sempre legate a un fantasy, quindi tutte molto oltre, non lo so, lo vedremo prestissimo nel libro e nel video che farò perciò ora guardate bene questa copertina di nuovo Giulia Canteri incantesimo e aspettiamo l'uscita che vi la farò sapere a prestissimo no, a prestissimo, prestissimo quindi grazie Giulia, grazie a voi e ci vediamo ora sul prossimo video mettete un like, condividete il canale Alessandra Musarelli e Brian Narrante e continuate a seguirmi e spero che questa sia la prima di una immensa attività di Cover Real per il momento grazie, ciao a tutti